Io capisco le loro ragioni, ma loro devono capire anche le nostre. Ragazzi fateci passare per favore. Dai via, per piacere. Ma quale sono le vostre ragioni? Le nostre ragioni è che siamo lavorando, siamo lavorando, lasciamo lavorare Corpino e vediamo quello che fa. Ah, lo sai, c'è il Presidente? E' appena iniziata la campagna, facciamo finire, normalmente finisce il 31 agosto, aspettiamo, a me questo che non capisco è questa mancanza di pazienza, capisco, la pazienza finita, però siamo al 5 di nulla. Aspettiamo e vediamo.